Musica Adesso vi presenterò il video di Chubby Bunny dove c'è Mandira e Karin D'Amico Ciao a tutti! Ciao! Allora, in questo video faremo la tag Chubby Bunny Vi spiego subito che cos'è per chi non la sapesse Chubby Bunny è un gioco che consiste nell'infilarsi in bocca dei marshmallows Oh my god! Ogni volta che ci si infila un marshmallow in bocca si deve dire Chubby Bunny E Vince che riesce a infilarsi più Chubby Bunny in bocca senza sputarli ogni volta a dire Chubby Bunny E' facile, no? Sì, sì, è facilissimo Allora, io direi di cominciare subito Chi ti inizia io? Sì, iniziate qui così almeno vedo come sta Allora Non bisogna né masticarli Allora, non me li vedi prima Non bisogna né masticarli né sputarli, sennò si è persa Ah, ok Ciao a tutti i panni Oh, madonna, aspetta là No Mi toccatene questo Oddio Aspetta Vai Ciao a tutti i panni Ciao a tutti i panni Non si può masticarlo? No Vabbè Ciao a tutti i panni Oh no, direi di più cibo Ciao a tutti i panni Ciao a tutti i panni Oddio Ciao a tutti i panni Ciao a tutti i panni Ciao a tutti i panni O quanto siamo? Non lo so Ciao a tutti i panni Ciao a tutti i panni Aspetta Ma questo quasi veniti Aspetta Tutti i panni Stai venendo Tutti i panni Aspetta Ciao a tutti i panni Oddio mamma mia Salve l'anime Oddio Ciao a tutti i panni Tocchi a tutti i panni Stai bene 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 Oh, where are you? Oh, bella! 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 God, bella, bella! Mmm! Mmm! cercherώνasi ero cercherärasi cercherich 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 No, no, no E dopo questa sfida zuccherosa E disgustosa oltre a zuccherosa Siamo rimasti scioccati Comunque vedremo alla fine chi ha vinto Perché eravamo talmente presi Tra l'affogarci e il ridere Che non abbiamo contato il marshmallow E quindi niente Approfittiamo di questo video anche per Per annunciare che il 2 e il 3 novembre Saremo a Lucca Comics Quindi se ci siete anche voi E se ci volete incontrare Sappiate che noi ci andiamo in quei due giorni E vi posteremo su Facebook Io nella mia pagina, lei nella sua Una foto come indizio del costume Che indosseremo E alla prima persona che indovinerà Verrà dato un piccolo regalo Verrà spedito poi a casa Quindi seguitici anche sulla pagina di Facebook La mia è Kevin D'Amico Graphics E la sua è Mandira Makeup Poi vi metteremo tanto i link in descrizione Va bene, niente A questo punto Dopo questo video pazzerello Niente Vi salutiamo E niente Ci vediamo il prossimo venerdì Ciao 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 Grazie a tutti